Oggi è venerdì 30 gennaio 2015. Domani l'arrampicatore della politica italiana Matteo Renzi farà eleggere come Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il commento che mi viene da fare è il seguente Il solito bene per nascondere il solito male laddove il fatto che il bene sia il solito potrebbe costituire esso stesso un male. Ma chi è Sergio Mattarella? Di lui, come di ogni personaggio pubblico, potremmo fornire tre caratterizzazioni una personale, una riguardante il pensiero o la concezione più in generale di vita e più in particolare operativa nel settore in cui il personaggio si trova ad operare e poi la condizione istituzionale. Personalmente, al di là di familiari, amici e conoscenti, nessuno può dire nulla su Mattarella. Qualcosa però possiamo dire sul suo pensiero e sul suo ruolo istituzionale. leggiamo nell'enciclopedia Treccani Mattarella Sergio, politico nato a Palermo nel 1941 deputato della democrazia cristiana e ministro negli anni Ottanta dopo la frammentazione della D.C. nel 1994 è stato tra i promotori del Partito Popolare Italiano vicepresidente del Consiglio primo governo d'Alema 1998-99 e ministro della Difesa 2000-2001 è stato nel 2001 deputato della Margherita e presidente del Comitato per la Legislazione dal 2002 al 2003 nel 2006 è stato eletto deputato per l'Ulivo carica che ha ricoperto fino al 2008 nel 2011 è stato nominato giudice della Corte Costituzionale da questo profilo che cosa risulta per quanto concerne una possibile attribuzione di un certo pensiero al futuro presidente della Repubblica direi che risultano due cose interconnesse tra di loro più che due cose sono due mancanze due mancanze che si riferiscono a quello che abbiamo definito il solito bene e che in quanto manca di ciò di cui adesso diremo non è bene ma male da questo profilo manca qualsivoglia pensiero ecologico cioè qualsivoglia preoccupazione in riferimento ad una economia o gestione di risorse fisiche finite alternativa rispetto alla attuale o consumistica la seconda cosa che manca causa ed effetto della mancanza della prima è la democrazia la democrazia o meglio una certa concezione della democrazia che a mio avviso è l'unica sostenibile questa concezione della democrazia per quanto riguarda l'esercizio politico del potere democratico concerne il fatto come almeno in linea di principio si sosteneva agli arbori della concezione democratica nella Grecia del quinto secolo avanti Cristo bene questa condizione questa richiesta questa necessità esige che il potere democratico cioè la politica in una democrazia escluda la presenza di politici di professione cioè la mia definizione di democrazia è la seguente sia democrazia almeno come condizione necessaria e non sufficiente qualora non si abbiano politici di professione perché se io sono un politico di professione cioè per così dire faccio politica da quando nasco o quando muoio gestisco il potere io per anni e anni e anni costituisco un impedimento esiziale esiziale ad ogni politica democratica ad ogni società democratica l'ultimo presidente della repubblica ha fatto politica tutta la vita per 70 anni e quindi non può essere definito un democratico e non può aver fatto nulla di buono in favore della democrazia con il suo esempio estando la definizione che ho fornito ma lo stesso anche se in misura forse minore perché qui si parla di partecipazione attiva alla gestione del potere politico dagli anni 80 quindi da una trentina di anni fa in poi e queste considerazioni si possono fare per il futuro presidente della repubblica non a caso scelta da Renzi il quale è del pari non democratico perché è un politico di professione non ha fatto altro nella vita che politica cioè non ha fatto altro nella vita che combattere per raggiungere i vertici della gestione del potere di un paese del potere istituzionale legislativo e non a caso nell'antidemocratico Renzi abbiamo come nel suo presidente nel suo primo perché sfortunatamente è molto probabile che Renzi resti anche egli un ventennio dopo Mussolini e Berlusconi al potere il suo primo presidente della Repubblica Mattarella ebbene abbiamo anche Renzi una totale mancanza di pensiero ecologico di cultura ecologica è un consumista è per la crescita nel senso di crescita dei consumi per la pubblicità per gli sponsor per la globalizzazione per l'Europa degli sponsor della pubblicità e della globalizzazione per il marketing per l'economia finanziaria quindi simbolica per l'ecologia intesa come lusso alla Farinetti e alla Italy e ritorniamo al nostro titolo il solito bene per nascondere il solito male il titolo ha motivato da una riflessione contingente sulle immediate esigenze politiche che ha Renzi per mantenere il potere così spietatamente conquistato spietatamente nel senso della cecità a tutto se non alla conquista del potere e siccome l'uomo è mediocre così come ogni cosa è mediocre ogni animale è mediocre cioè è medio e i grandi numeri fanno la media per conquistare il potere bisogna essere medi per avere successo bisogna essere mediocre e non basta dissimularlo perché poi a lungo andare si viene smascherati ma bisogna può esserlo mediocre è il mediocre colui che è successo e Renzi aveva bisogno di una figura riconosciuta universalmente in Italia come positiva per usarlo come schermo al fine di raggiungere i suoi obiettivi che sono nient'altro che quelli autoreferenziali del mantenimento del proprio potere o del raggiungimento del proprio successo fra un ragazzo che fa un reality che partecipa ad uno di quelli di quei programmi talent scout e Renzi non c'è differenza è successo fino a se stesso quindi il successo inteso come piacere al maggior numero possibile di persone quindi inteso come essere immensamente mediocre riuscire ad essere immensamente mediocre e lo si nasce in larga misura immensamente mediocre e per questo si persuade il prossimo di esserlo e così si consegue il successo basti pensare a film o le pop star un'immensa mediocrità che proprio perciò ha successo perché viene riconosciuta dalla massa che per definizione è mediocre e media in gusti in pensiero in fantasia desideri e il solito bene abbiamo detto anche nel senso che è una prassi ormai fin troppo nota quella di darsi un'apparenza benigna per poi da dietro fare meglio quello che si vuole Renzi non ha presentato un impresentabile ma ha presentato una persona a cui nessuno può dire di no nell'Italia attuale e con ciò si è garantito una impunibilità se non perenne almeno a medio o addirittura a lungo termine ora però poi il discorso è anche un altro e cioè che questo solito bene in quanto è il bene riconosciuto dall'Italia attuale che però è l'Italia della mancanza di democrazia e la mancanza di ecologia è esso stesso male lo abbiamo visto analizzando brevemente la figura di Mattarella pertanto ad un livello ad un primo livello Renzi ha fatto il gioco di presentare il solito bene per nascondere il solito male ma in realtà Mattarella e Renzi sono due facce della sesta medaglia e il bene ricepito come tale dalla maggioranza e riferito a Mattarella coincide con il male di Renzi non solo il male che Renzi ha fatto o farà in ambito democratico ed ecologico ma anche il male particolare riferito cioè alla specifica legge che alcuni che adesso plaudono alla alle elezioni di Mattarella rintracceranno in Renzi in futuro senza accorgersi che il male sta a monte è già qui è già in questa elezione perché è l'elezione che perpetua un mondo un'Italia senza democrazia e senza ecologia l'antidemocrazia di Renzi sull'antiecologia o sulla mancata di ecologia essendo fin troppo facile insistere caratterizziamola maggiormente della politica come professione che è il punto fondamentale abbiamo già detto perché la democrazia come è noto ha bisogno di un certo livello di acculturazione in quanto ha bisogno che tutti partecipino alla vita democratica e quindi ha bisogno che tutti raggiungessero un livello adeguato al fare politica e invece il politico come professione blocca questo raggiungimento è la causa e l'effetto del raggiungimento è la causa e l'effetto del non raggiungere questo livello da parte di tutti del sapere fare politica e del poter fare politica e allora che cosa accade che il politico di professione per bloccare proprio l'accesso di tutti alla politica e quindi alla realizzazione della democrazia mette attorno a sé una cintura di di manovalanza di assistenti che vengono dal nulla che nessuno ha eletto anche a causa delle leggi elettorali aberranti fatte per impedire ai cittadini di leggere di leggere i propri legislatori i quali poi i quali personaggi messi come manovalanza come cintura protettiva del leader che va a scalare il successo non soltanto nessuno li ha eletti e nessuno li eleggerà considerando le nuove nefaste leggi culturali leggi elettorali e renziane ma vengono anche appoggiate dai mass media in maniera ributtante basti pensare al caso della signorina Boschi veramente un caso clamoroso una trentenne che se ne va nelle reti pubbliche come da fazio o private come dalla Lignarti e viene trattata come una specie di santa senza nessuna domanda senza nessuna questione sollevata la quale se ne sta lì nel mezzo al Parlamento a pavoneggiarsi a prendere soldi pubblici a gestire il potere pubblico è messa lì soltanto perché ha vinto una lotteria fra i tanti o le tante che all'epoca e anche ora circondavano circondano l'arrampicatore della politica italiana Renzi poi la mancanza di democrazia si ha anche nell'argentese tu non puoi in democrazia rappresentare o portare avanti una linea politica e poi fare una specie di marmellata mettendoti d'accordo con tutti e tradendo così chi ti ha votato per portare avanti quella linea politica lì però Renzi non è stato votato però è il capo di un partito che qualunque idea abbia o non abbia comunque non può essere confuso in quanto deve avere un'idea o una linea politica con tutti gli altri partiti invece tende il più possibile a confondersi con tutti gli altri partiti o con tutti coloro che sono d'accordo a gestire il potere così come viene gestito e infine il problema enorme che abbiamo già accennato dei mass media che essendo parte integrante di questo potere che si basa sull'assenza di democrazia e sull'assenza di ecologia non fanno niente per criticarlo e quindi contribuiscono in maniera pesantissima allo sfacelo presente e che continuerà nei prossimi lunghi anni